Grazie Allora Allora Siccome qualcuno si era lamentato Vediamo come col pane E l'aranciata Insomma Sono ragazzi di campagna Abbiamo raggiunto Sono ragazzi di cominci Allora dico Volendo Qui non ci sta male Né pure la polistica Né pure il semino Ci sta bene anche così Anche un po' ci si forse Sento che non c'è ancora Che è forte Proviamo Prova Ah sì Con tutto rispetto Che il dottor Marini Al quale ha assistito Alla presentazione E io per l'occasione Stengo il sito Ma lei mi può essere Parlando Ma a me questa dieta Mi misce poco Dio Mi 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 Grazie a tutti.